A cortina incontra con Geppi Cucciari per parlare delle gaff dei politici. Appunto, un commento sullo scivolone di Silvio Berlusconi e l'affair da Dario? Beh, insomma, diciamo che io vedo più uno scivolone di una donna, lo scivolone di un uomo più che di un politico in quel caso. E anzi, visto che si tratta di una donna che faceva un mestiere antico e solido a suo modo, devo dire che condanno più lei che lui, ecco. Come mai condanna più lei? Perché lei non era là per caso, lei è andata là perché l'ha voluto, lui l'ha chiamata, o l'ha fatta chiamare, che più o meno le cose sono simili, ma in questo momento io condanno di più chi prostituisce il proprio corpo e la propria anima, in qualche modo, che non chi, devo dire, anche chi usufruisce di questo servizio, chiamiamolo in qualche modo. Però condanno lei per come ha rappresentato le donne e in quel caso lui per come ha rappresentato un po' tutto, devo dire, sì. Condanno entrambi, guarda, secondo me è una bella lotta quella che mi chiedi di rimere. Si parla tanto di presenza femminile in politica in questo governo e anche di Noemi Letizia che ha detto di essere indecisa se fare la parlamentare o la velina, non c'è un po' di confusione? Sì, guarda, la cosa drammatica è che probabilmente farà entrambe le cose, ma non è la prima, né l'ultima. Ce ne sono parecchie, quindi è anche un po' colpa dei modelli televisivi femminili che propone la televisione, e come pensiamo all'isola dei famosi? Probabilmente, di sicuro, il modello di donna che in questo momento viene proposto non è certamente quello della donna normale, affidabile, che tutti vorrebbero come figlia o come fidanzata del proprio figlio, o anche proprio come la propria fidanzata. Però di sicuro, inspiegabilmente, viene molto apprezzato in qualche modo a livello televisivo questo genere di donna. Io sono molto diversa, ma la notte vado tranquilla a letto, la mattina mi sveglio e mi lavo con gioia, quindi preferisco questo. Come la donna che non si vorrebbe come fidanzata è anche la Belen che ha fatto quello che ha fatto? Beh, non mi pare che uno non la si voglia come fidanzata, perché come fidanzata la vorrebbero in tanti. Ma infatti è un fidanzato sicuramente solido, ecco, si diverte, lei lavora. Abbiamo percorsi diversi, siamo molto diversi fisicamente a quanto lo siamo artisticamente. Lei adesso è troppo politicamente corretta, ci dica qualcosa di politicamente scorretto. Non lo farei mai, non faccio la politica, faccio l'attrice, la scrittrice, vorrei fare intrattenimento, quando vorrò fare politica, sarai la prima a saperlo. Va bene, un'ultima battuta sulla televisione italiana, vista dall'interno e anche dall'esterno, come sta? Sta in fase alternata, diciamo che ci sono programmi molto belli, programmi decisamente meno belli, donne piene di talento e donne che ne hanno meno, c'è chi ha talento e non lavora, chi ne ha troppo poco e lavora troppo. Diciamo che se in tutti i campi lavorativi non vale sempre che ognuno ha quello che si merita, talvolta hai di più, talvolta hai di meno, ecco, mentre magari nell'ufficio sotto casa non tutti lo sanno, quando uno è in tv è più facile essere giudicati nel bene e nel male, sono la prima, probabilmente tante persone mi vedono e non mi sopportano e si chiedono perché io sia lì. Questo vale quando decidi di fare un mestiere che vive e si alimenta dell'approvazione altrui, poi tu devi essere tranquilla con te stessa, io penso di esserlo, questo non basta per piacere a tutti. Grazie a tutti.